Si è svolta alle prime ore dell'alba di oggi un'operazione della Polizia di Stato, la squadra mobile di Caserta e il commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni, coordinata dalla DDA di Napoli, che ha portato alla cattura di tre persone responsabili dell'omicidio di Daniele Panipucci, 30 anni colpito al volto da un colpo d'alma da fuoco nella serata del 25 maggio del 2016 a Maddaloni. Per l'omicidio avvenuto secondo quanto emerso dall'attività investigativa nell'ambito dei conflitti inerenti allo spaccio di stupefacenti, gli indagati rispondono altresì al reato di associazione delinquere di stampo mafioso in quanto ritenuti organici al clan Belfort, fazione di Maddaloni, operante nella provincia di Caserta, nei comuni di Maddaloni, Cervino, Santa Maria, Vico e Valle di Maddaloni. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it